Chiusura dell'attività produttiva, smantellamento degli impianti e messa in sicurezza dell'area caldo, rilancio dell'attività logistica, potenziamento dell'area freddo, riconversione della centrale di produzione di energia elettrica. Sono questi i principali punti del piano industriale della ferriera di Servola contenuti nell'accordo sindacale presentato ai sindacati ieri al Ministero dello Sviluppo Economico dal gruppo Arvedi, su cui i lavoratori saranno ora chiamati ad esprimersi con un referendum il 7 gennaio prossimo. Le operazioni di spegnimento dell'area caldo inizieranno a partire dal 1 febbraio 2020 e il gruppo, si legge nel documento, conferma il proprio impegno per la ragionevole salvaguardia dei livelli occupazionali. Le iniziative per la ricollocazione dei lavoratori 310 dell'area caldo prevedono il trasferimento nell'attività dell'area freddo di 198 occupati, che verranno formati e riqualificati durante il periodo di sospensione dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione straordinaria. 50 dipendenti saranno occupati nell'attività di bonifica e smantellamento dell'area caldo, un'attività che richiederà circa 24 mesi per essere completata. A 66 dipendenti sarà invece offerta la possibilità di essere trasferiti in altre sedi del gruppo, mentre per altri 58 saranno attivate le procedure per favorire l'uscita volontaria. Il ricorso alla Cassa Integrazione verrà richiesto per un periodo massimo di 24 mesi. Gli investimenti previsti ammontano a 180 milioni di euro. Sul documento, propedeutico alla firma dell'accordo di programma, che dovrà essere siglato dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, insieme con Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Autorità Portuale del Mar Adriatico Orientale e Gruppo Arvedi, tuttavia i sindacati non concordano. La FIOM CGL infatti contrasta la chiusura dell'area caldo dell'impianto siderurgico triestino e dopo il referendum dei lavoratori, il giorno successivo, l'8 gennaio, potrebbe arrivare la sottoscrizione dell'accordo sindacale al Mise. Il Gruppo Arvedi punta alla totale decarbonizzazione dell'impianto. Di certo si legge in una nota emessa da Gianni Venturi, segretario nazionale della FIOM, c'è soltanto che i lavoratori attualmente a tempo determinato in somministrazione dal 31 gennaio prossimo saranno licenziati, se nel frattempo non si troveranno soluzioni in imprese terze.